Riparte Stella per una notte, quanti saranno i partecipanti? I partecipanti sono divisi in categorie ma in totale sono 54 partecipanti tra ragazzi dai 6 anni fino ad arrivare agli adulti. Quando si svolgerà e come si svolgerà? Il festival partirà giovedì 24 fino a domenica 27, la prima serata è dedicata ai bambini e quindi sarà una serata conclusiva con premiazione mentre invece le altre tre serate sono due semifinali e i vincitori di ogni finale del venerdì e del sabato, la domenica si contenderanno il titolo di Stella per una notte. Tra gli ospiti anche Luna Palumbo? Sì, tra gli ospiti sì, anche lei, poi abbiamo come presidente di giuria Rosanna Casale e quindi ogni sera avremo qualche sorpresa da presentare al pubblico del Parco del Mercatello. L'ingresso è gratuito? L'ingresso è gratuito, abbiamo trovato uno spazio abbastanza grande per facilitare anche la venuta delle persone, quindi possono parcheggiare tranquillamente, non ci sono problemi. Quindi il Parco del Mercatello è un'area molto grande e quindi è piacevole passare anche quattro serate al fresco. A parte il festival che vuole scoprire i nuovi talenti salernitani in ambito musicale? Un'altra bella iniziativa che è Salerno all'onore di ospitare, la sesta edizione che coinvolge tanti giovani, tanti che aspirano a calcare i palcoscenici italiani. Devo dire che tra l'altro è un concorso davvero importante che vede alle protagonisti tante persone che non vengono soltanto dalla nostra regione ma vengono da tutta Italia, che ha nel tempo anche consolidato dei rapporti molto forti con alcune altre realtà come l'Egnago. E davvero siamo molto soddisfatti perché porta delle persone, porta dei turisti, porta una ricaduta anche economica e poi completa un programma di eventi e di iniziative che stiamo portando con grande entusiasmo e anche con grande passione nella nostra città e che si stanno traducendo in tanti anche pernottamenti e in tanto turismo che la nostra città oggi sta consolidando. Stella T, come si svolgerà la manifestazione? Allora noi abbiamo avuto 252 iscrizioni nel mese di aprile, pertanto abbiamo dovuto fare una scrematura per prendere i migliori e 54 vengono a fare il festival con noi. La manifestazione si svolgerà in quattro giorni, il primo è dedicato ai bambini e ai ragazzi, i mezzani chiamo io quelli che sono tra i bambini e gli adulti. Lì si farà direttamente il festival, ci sarà la manifestazione completa, tutto lo spoglio della giuria, tutto quello che c'è da fare e verranno premiati. Mentre nelle serie successive, ovvero venerdì e sabato ci sono due semifinali tra i concorrenti che sono più grandi, sono le stelle, sono persone che hanno più di 16 anni d'età. Poi intervallo questa categoria con la categoria di nuove stelle, a cui fanno parte coloro che vogliono mettersi in gioco con un pezzo inedito. Molti di loro l'hanno scritto da solo, quindi diamo spazio anche agli autori. La giuria sarà composta da Rossana Casale, Luna Palumbo, abbiamo due nomi di eccezione, ci daranno una mano appunto, e poi dei musicisti e artisti salernitani. Il premio per la stella per una notte? Consiste in una produzione discografica di un pezzo totalmente nuovo, un pezzo inedito, e poi con questo pezzo qui vedremo dove mandare i nostri concorrenti all'anno prossimo.